buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo vlog oggi buona epifania a tutti vi mostrerò due parti di questo video oggi lo scambio della cassa questa l'ho creata da me tutto arivo quindi sono le caramelle che io adoro mentre le altre sono altri tipi di cassa allora ho scelto queste caramelle qua si chiamano arivo polka con la nota musicale mi sembra di averne presi due eccola qua sono tutte sortite e poi c'è le altre caramelle sono tre parti queste di qua arivo coccodrilli molto buone adesso vi lascio l'altra parte del video come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale lasciare un like un commento attivate la campanella che c'è in basso a destra così verrete avvisati ogni volta che esce un mio video io vi saluto e noi come sempre ci vediamo al prossimo vlog da pamela 84 ciao allora ho acquistato queste calze questa per max mio marito e queste due per me una delle lol e una di frozen allora vado a consegnare quella per max eccolo lì max amore guarda ti ho comprato la calza anche perché lui subito incuriosito vuole sapere cosa ci sta dentro ecco adesso te la apro amore tu sei seduto e fa il bravo ecco allora aspettate ecco qua andiamo ad aprire la calza di max così lo avviciniamo un po perché sennò nella videocamera non ci entra da da cosa ci sarà mai lui come un bimbo allora ecco qui il primo giochino un cagnolino come te aspetta e poi c'è il secondo giochino a lui piacciono questi colori molto sgargianti ecco la bevana a te max ha portato questi due giochini ti piacciono ma si ha scelto il cagnolino come primo gioco ecco vado ad aprire le mie calze inizio da quella di frozen allora vado ad aprire vediamo cosa ci sarà dentro questo è una marca che non conosco una marca nuova erano in offerta e quindi le ho presa di sacchettini non lo so a dei biscottini sono di questa marca qui biscottini biscotti al cacao li assaggeremo magari con il latte poi ha due pacchi tanto per cambiare poi altre questi cosa sono sembrano i cereali del latte infatti cereali vediamo un po cosa c'è altri cereali quindi faremo delle belle colazioni tutto sommato vado avanti vado a vedere cosa trovo altri biscotti questi sono al latte vediamo cos'altro c'è è una barretto ai cereali e infine ci dovrebbe essere una piccola sorpresa se non erro eccola qui vediamo cosa vado a trovare qui c'è Elsa almeno una cosa carina ho le dita tutte rovinate bruciate e screpolate non ci fate caso qui c'è il bigliettino delle degli altri componenti ma per fortuna io ho trovato Elsa sono molto felice andiamo avanti con l'altra calza credo siano ci siano le stesse cose vado ad aprirlo ecco ecco ci sono le stesse cose quindi faremo delle belle colazioni abbondante quindi ci sono ho trovato cereali biscotti e sicuramente roba fredda poi andremo a vedere la sorpresa ecco qui ecco qui cosa vado a prendere cereali biscotti e latte guardate un po fatto rifornimento di tutto vediamo che sorpresa esce fuori ecco qui un codino no ah si un codino delle lol che io userò sinceramente come anello qui ci sono gli altri componenti ed ecco qua ora vado da mio marito va ad aprire la sua calza lui è un milanista quindi ci sta lui è un altro metodo per far vedere cosa c'è dentro aspettate che ci sono le linguette quelle trasparenti per non rovinare le calze allora aspettate un po ecco questo è tutto quello che ha trovato barrette di cioccolato due barrette uguali tutto milan ufficiale milan poi questo è il il gadget il regalino credo sia un evidenziatore del milan adesso io lo facciamo provare vediamo un po come scrive ecco qua sì è un evidenziatore milan a posto andiamo avanti vediamo cosa esce fuori un'altra barretta seconda barretta una al latte una fondente e altre due barrette questo è tutto quello che ha trovato ecco queste sono quelle le cose che abbiamo trovato nelle calze spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo vlog è edizio per il potente ecco 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 Grazie.